Sono una delle attrazioni naturalistiche più conosciute della Valle del Metauro, il piccolo canyon e le marmite dei giganti. La profonda forra presenta ripide pareti verticali per un'altezza massima di 30 metri sopra il livello del fiume e di 17 metri e mezzo sotto. La larghezza massima tra le due sponde è di 13 metri e quella minima poco più di un metro. Il canyon si presenta come una spaccatura della crosta terrestre che mette a nudo una storia geologica di ben 140 milioni di anni. Al suo interno ci sono le famose marmite dei giganti che altro non sono che cavità rotondeggianti di varia grandezza che vanno dai 3-4 metri fino a un metro, oggi occupate da piccoli specchi d'acqua prodotte nei secoli dall'erosione fluviale. Per vederle basta affacciarsi dalla spalletta del ponte di Diocleziano presso San Lazzaro di Fossombrone, di recente restaurato dal comune per accogliere al meglio le migliaia e migliaia di turisti che ogni anno vengono a guardarle. Sì, un luogo conosciuto veramente in tutta Italia, non è un modo di dire. Quest'anno tra l'altro c'è stato un vero boom di turisti, ci raccontavano i residenti che sono arrivate pullman veramente a centinaia di persone come da anni non si vedevano, quindi la cosa ci fa piacere e questa è una bellezza che ci ha regalato la natura, quindi noi abbiamo solo il dovere di preservarla, di valorizzarla e nel nostro piccolo qualcosa abbiamo fatto, il punto in cui ci troviamo era abbastanza in uno stato malandato, diciamo così, abbiamo provveduto a rinverniciare le ringhiere, a rifare i muretti che erano un po' scorstati eccetera, quindi una rinfrescata gli è stata data. L'idea di valorizzare chiaramente quello che vediamo alle nostre spalle rendendolo sempre più fruibile, visitabile, più da vicino, per cui c'è qualcosa che bolle in pentola, non bisbilancio anche per scaramanzia, però ci stiamo lavorando, insomma c'è un progetto abbastanza ambizioso per renderlo sempre ripeto più fruibile, più visitabile, più gradevole, insomma accessibile al pubblico, quindi è una fortuna avere una risorsa come questa, non è una località che hanno tutti, mi dicevano degli esperti che sono veramente pochi in Italia in realtà come questa e quindi un'eccellenza assoluta che dobbiamo preservare e valorizzare.